La Porta Rossa 3, trame 18-1, deve decidere se tradire Cagliostro. Mercoledì 11 gennaio, è andata in onda su Rai 2 la prima puntata della terza stagione della Porta Rossa. Serie TV con l'imo guanciale che verrà trasmessa fino all'un grado febbraio. Il secondo appuntamento andrà in onda il 18 gennaio, sempre su Rai 2 alle ore 21 e 20. Le anticipazioni rivelano che Cagliostro vorrà fare una confessione importante a Vanessa. Ma non riuscirà a trovare il coraggio per farlo, mentre lei dovrà fare una scelta molto difficile che potrebbe portarla a tradire la fiducia di Cagliostro. L'appuntamento con la Porta Rossa del 18 gennaio sarà suddiviso come ogni volta in due episodi. Nel corso del primo episodio della serata, Cagliostro vorrà fare una confidenza a Vanessa. Che riguarderà una particolare visione da lui avuta. Però l'uomo si troverà in difficoltà e non avrà il coraggio di parlare con la donna. Intanto Andrea, il Black Block era stato tratto in arresto per gli atti vandalici compiuti in città. Parlerà con Paoletto e gli confesserà che sia lui che gli altri ragazzi autori delle violenze urbane. Erano stati assoldati proprio per portare disordine in città. Paoletto inoltre, sembrerà conoscere già Andrea. Durante il secondo episodio della serata, non mancheranno i colpi di scena legati a Vanessa. Le anticipazioni ci rivelano infatti che la donna sarà messa davanti a una scelta molto difficile. Vanessa si ritroverà infatti a pensare di tradire Cagliostro e la loro amicizia. La donna dovrà compiere questa scelta, se vorrà salvare il centro studi e la nuova comunità a cui lei stessa ha deciso di appartenere, una situazione sicuramente molto spiacevole. Anna invece, si troverà a perseguire diverse piste nella propria indagine. In particolare, indagherà sul centro studi e sul professor Braida. Fondamentale sarà l'aiuto del custode Luca Levani. I primi due episodi della nuova stagione della Porta Rossa, andati in onda l'11 gennaio, sono intanto già disponibili sul sito di RaiPlay. Si tratta di un servizio gratuito messo a disposizione dalla Rai, che permette di vedere tutte le puntate già andate in onda di questa e di altre fiction. Il servizio potrà essere utilizzato sul proprio PC, smartphone, tablet o sul proprio smart TV. Al solo costo della propria connessione internet. Grazie. 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 Grazie.